bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi andiamo a vedere come mettere il pull white su qualsiasi veicolo prima di iniziare come sempre vi chiedo di lasciare un bellissimo like e di iscrivervi al canale di passare per i canali del team glitch troverete sotto nella descrizione e di iscrivervi al canale telegram dove troverete supporto per fare i glitch o semplicemente scambiarvi i casi bogdan requisiti ragazzi arena war con rc bandito dovrete avere la mira manuale per fare un partecipa a sessione dopo e dovrete avere anche questa auto qui la bravato sprang buffalo che costa 535 mila dollari lo so non sono pochi però se volete il pull white purtroppo la dovrete comprare una volta ordinata e una volta che vi sarà stata consegnata ragazzi semplicemente salita all'interno dell'auto e fate freccia destra per entrare nella vostra officina una volta all'interno dell'officina ragazzi fate cerchi e fate esci dal veicolo quindi ora dirigiamoci verso il nostro caro bandito qui ci metteremo in prima persona e soprattutto verso la parte posteriore del bandito vedete che sparisce la scritta premi freccia destra per modificare a questo punto in prima persona guardiamo verso il pallino blu e contemporaneamente freccia destra e levetta analogica sinistra verso l'alba vi farà quel solido 360 gradi se ve lo farà a quel punto potrete rientrare nella vostra buffalo e modificare una qualsiasi componente a questo punto fate cerchio e quando salite su esci dall'officina fate un partecipo a sessione tramite un party o un amico che è in puntamento di mira diverso al boss vi uscirà il primo messaggio accettatelo velocemente ora camminate e se vi uscirà il secondo messaggio nero come questo qui fate cerchio e rifiutatelo stessa cosa se vi dovesse uscire il messaggio di voler cambiare il puntamento di mira ora salite sull'auto sul cui trasferire il pull white e fate r2 per uscire fuori e guardate un po eccolo qui ragazzi facile e veloce un bel colore è difficile da trovare quindi approfittatene ora per prenderlo perché poi magari per un po di tempo non si potrà più fare e adesso solito procedimento ragazzi scendete dalla macchina vedrete che sparirà e ora entrate a piedi a livello officina della vostra arena war quindi come vedete ora ragazzi la macchina è bella parcheggiata abbiamo il pull white ora passaggio fondamentale fa entrate a bordo e fate freccia destra per andare a modificare all'interno della vostra officina una qualsiasi componente e salvarla così definitivamente come avete visto è veramente semplice approfittatene prima che venga pacciato spero il video vi sia piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo la prossima bella per tutti